Questo è come siamo oggi. Un headquarter e 5 sedi operative caratterizzate da un ambiente di lavoro sereno. Una forte motivazione e una leadership unica. L'headquarter rappresenta il cuore pulsante dell'azienda e il crogiolo di idee in cui il management aziendale si fonde armonicamente con il reparto marketing e sviluppo. Con oltre 80 risorse in organico, la nostra realtà si basa su una struttura solida e inimitabile, rappresentando da molti anni una delle migliori agenzie sul territorio nazionale. Ma la nostra storia inizia molto prima. Proprio qui, nel 2009, abbiamo scritto il primo capitolo della nostra avventura, con l'obiettivo di offrire un servizio di mobilità innovativo ed efficace. In breve tempo, i traguardi raggiunti ci hanno permesso di inaugurare, nei pressi del centro storico, una nuova struttura torinese moderna e accogliente. In Bigia Group Italia, il progresso si fonda su un continuo dinamismo. Il costante sviluppo dell'azienda ci ha portato ad aprire una sede nel centro della città, simbolo dell'economia italiana, Milano. Il nostro successo è inarrestabile. Nel 2022, la società diventa una holding e dà vita al primo Digital Mobility Store d'Italia. Possiamo pertanto soddisfare tutte le esigenze degli utenti mediante tre diverse divisioni. Il noleggio a lungo termine, il noleggio a breve termine e la vendita di auto. Nello stesso anno, viene inaugurata una nuova sede a Forte di Marmi. La prima, in cui le tre realtà aziendali convivono a stretto contatto e armonicamente. Il centro nevralgico di DGA Rent, ramo specializzato nel noleggio a breve termine, si trova invece a Torino. Da qui, la flotta delle automobili viene coordinata e smistata nelle altre sedi del territorio. Per chi predilige un'auto di proprietà, abbiamo creato la divisione DGA Concept Store, a cui compete la compravendita di autovetture. Siamo profondamente consapevoli che alla base del nostro successo risiedano la diversificazione del business e una vision sempre chiara. Da quando abbiamo cominciato questo viaggio, la bussola che ci ha guidato ha sempre puntato verso un'unica direzione, quella della completa soddisfazione dei clienti, dei collaboratori e dei fornitori. Solo così possiamo essere certi che tra nuove sfide e nuovi successi, il viaggio continuerà ancora a lungo.